Nessun dubbio sul fatto che il web offra opportunità di informazioni importanti tra le miriadi che si possono trovare, i più gettonati o meglio ancora i più cliccati risultano i dizionari online. Uno strumento sempre più utilizzato poiché capita a tutti prima o poi di non conoscere un termine in italiano, tedesco e inglese che sia di cui la necessità di comprendere l'affidabilità di questi vocabolari. I dizionari come Victionary e questi dizionari non di case editrici, come funzionano quelli? Praticamente sono gli utenti stessi, la gente comune, le psicografie professionali che si mettono lì a formulare o creare un dizionario. Qui ovviamente la qualità può essere anche diversa, però qui ci basiamo su quel che chiamiamo The Wisdom of the Crowd, ci basiamo praticamente sull'intelligenza della massa e si spera che praticamente col controllo reciproco tra un utente all'altro praticamente la qualità migliori. E poi ovviamente anche questi dizionari spesso coppiano di quei dizionari delle case editrici che conosciamo. I dizionari hanno pro e contro se da una parte sono rapidi da consultare, dall'altra occorre comprendere se le informazioni inserite siano corrette, poiché integrare o correggere la descrizione di alcuni vocaboli è alla portata di tutti. In merito non ci sono controlli né divieti. Di questo e di altre tematiche ne hanno parlato gli oltre 200 linguisti provenienti da tutto il mondo che hanno partecipato all'Euralex, un convegno in corso di svolgimento all'Eurac di Bolzano fino a sabato.